Cocaina proveniente dall'estero per conto della famiglia mafiosa catanese De Nizza. La Guardia di Finanza di Catania ha sgominato un'associazione italo-dominicana. In manette Giuseppe Galati, Patria Battista Melendez, Francesco Di Prima, detto Frasciame, e Stefano Borghese. Obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per Massimiliano Lapiana e Renato Dario Gravagna. Galati, ritenuto l'organizzatore del gruppo criminale, era stato arrestato nell'ottobre 2014. all'aeroporto Fontana Rossa, perché in possesso di 800 grammi di cocaina purissima, importata dalla Repubblica Dominicana. La banda ha poi proseguito la sua attività grazie alla moglie di Galati, Patria Battista Melendez, che manteneva relazioni commerciali con i fornitori e contatti con un cittadino dominicano in fase di identificazione, conosciuto come compadre. Stefano Borghese e Francesco Di Prima rappresentavano invece i corrieri. Quest'ultimo avrebbe partecipato, tra l'altro, anche all'importazione di cocaina, dalla quale era poi scattato l'arresto di Galati. Nel novembre del 2015, Stefano Borghese è stato bloccato all'aeroporto di Palermo perché in possesso di 825 grammi di cocaina purissima in valigia, proveniente da Santo Domingo, è nascosta in deodoranti e prodotti per la cura del corpo. I numerosi viaggi da e per Santo Domingo avvenivano per l'acquisto di cocaina per conto del clan mafioso Denizia. Disposto anche il sequestro preventivo di un immobile del valore di 128 mila euro e di un panificio, entrambe a Catania, perché acquistati con i guadagni realizzati dal traffico di stupefacenti.